Cari amici di calcimercato.com, io sbaglio perché non devo arrabbiarmi, ma vi rendete conto che la Juventus a Udine sembrava un'altra squadra, parliamo di questo dai, perché le indicazioni che arrivano da prima di campionato sono tante, le delusioni sono le due romane, inutile girarci attorno, la sorpresa positivissima di cui nessuno ha parlato è la Fiorentina, invece in tanti hanno parlato riguardo alla Juventus del fatto che c'è un segreto, è stato scoperto il jolly della Juventus che si chiama Francesco Magnanelli, cioè il giocatore indicato da Chiesa, da Pinzoglio, mi pare anche da Rabiot, non lo so, come un nuovo inserimento nello staff che ha trasformato la Juventus, fin dalle prime amichevoli, nei giorni, negli allenamenti del ritiro in America, lì dove sono andati, in pratica quasi, lo dico con ironia, dice Allegri è andato in America in ferie, Allegri andava a vedere le bellezze di Orlando, i parchi giochi di Orlando, la costa della California e Magnanelli invece lavorava e trasformava la squadra, ora tutto questo nasce da un'affermazione di Chiesa, ma quante sono le affermazioni dei calciatori che dicono ringrazio il mister e ringrazio anche lo staff, ecco, in questo caso c'è stata una presa di posizione abbastanza come dire preconcetta, precostituita, da parte di tutti quelli che sul web si sono arricchiti con il famoso hashtag Allegri Out, ecco, in questo caso io credo che, è chiaro che il web per tanti è anche una fonte di guadagno, se guadagni in quel modo va bene, però da parte di chi invece fa un'opinione un pochino più, come dire, corposa, costruita e consapevole, mi è sembrata un po', mi è sembrata di vedere un po' di pigrizia, ecco, in questo tutto merito di Magnanelli, oppure è importante Magnanelli, Magnanelli esegue le linee guida dell'allenatore, dice ma allora perché non dava le stesse linee guida l'anno scorso l'allenatore? Questa è una bella domanda, questa è una domanda che ci sta, è evidente che Allegri nei due anni del bis non ha rispettato le aspettative che forse erano un po' troppo elevate, ma comunque che poteva far meglio, altrettanto è evidente che nei cinque anni precedenti non aveva comunicato bene l'importanza e il valore delle vittorie degli scudetti, ma restando in quei due anni bis, ci sono tante spiegazioni che riconducono però, prima che al gioco, al pressing, all'atteggiamento, alla mentalità, innanzitutto ai giocatori, questo è fondamentale, ogni allenatore va comunque considerato in proporzione al valore dei giocatori. Allora faccio un esempio senza essere denigratorio con alcuni titolari dell'anno scorso, ma semplicemente tentando di spiegare quello che è evidente. Supponiamo Kostic e Cambiasso hanno caratteristiche diverse, Kostic va sul binario, Cambiasso è una mezzala, diventa una mezzala nello sviluppo del gioco, Kostic andando sul binario occupava lo spazio sul quale Chiesa si trova come nel giardino di casa. Chiesa è una seconda punta che volendo collabora anche con la squadra per fare pressing, cosa che invece non faceva Di Maria, o giocava uno o giocava l'altro. Blaovic aveva un po' di ansia e di pubalgia, adesso sta meglio. Paredes dava dei passaggi molto con i tocchettini, adesso c'è uno sviluppo molto più lineare e in profondità. Bonucci costringeva per caratteristica ad avere una linea difensiva molto più arretrata rispetto al trio brasiliano, che invece gioca una ventina di metri più avanti e chi altro ancora potrei fare degli esempi? Sono esempi comunque di caratteristiche del gioco adattate in base ai giocatori. L'allenatore è lo stesso, la squadra è cambiata, ma se per voi è merito di Magnanelli, io non so più che dire. Perché vale tutto, forse perché la squadra è cambiata e i commenti non sono cambiati, è un problema di Allegri.